Sono le 3.20, diciamo, sono circa 40 minuti per entrare in nave, faremo il tampone e dopo entriamo. Questa nave porta solitamente 5.000 passeggeri, siamo in 400, quindi cominciano a calare le possibilità di mia cognata di trovare un marito. Sono contento! Grazie a tutti! Grazie a tutti! E qui dobbiamo svegliare tutti quanti, perché qui soprattutto Riccardo sta dormendo in maniera troppo oscillante. Ho pensato, vediamo un po' se ci riusciamo in questo modo. Soldatori! Buongiorno! Salute! 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 Grazie a tutti Ma ce la fai? È ovvio, ovvio Grazie a tutti Riccardo, il miniclub apre fra mezz'ora E apre alle 10, sono le 9 e mezza Riccardo Che vuoi fare, Riky? Mia, ma la miniclub Lo so, Riccardo Ma apre alle 10 Mia, ma la miniclub Tutti pazzi per la miniclub di MSC Crocele La mezz'ora più lunga della mia vita Un'agonia totale La mezz'ora più lunga della mia vita La mezz'ora più lunga della mia vita La mezz'ora più lunga della mia vita Aizza, aizza, aizza A cala, a cala, a cala A costa, a costa A costa, a costa Alla salute nostra Ciao a tutti Ciao a tutti E' la città di MSC E' stata una nave grandiosa Sfuzzicadenti Sono introvabili Portateveli Portateveli da casa Non salite sulle navi da crociera senza sfuzzicadenti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti